Buonasera a tutti quanti, finalmente sta arrivando l'estate, ci sono 7 gradi, oggi è giovedì 2-2-2023, alle ore 23 e 52 minuti, però fa caldo 7 gradi, decisamente caldo fa. Vi auguro una buona serata a tutti quanti e una buona notte, ci vediamo domani, ciao a tutti. Ciao ciao.